Mettere al centro la salute e la sicurezza e inserirli nella gestione dei piani strategici aziendali, diminuire il numero di infortuni e di conseguenza anche i costi ad essi correlato e razionalizzare la gestione delle ore di permesso. Questi sono alcuni degli obiettivi della nuova norma ISO 45001, norma che andrà a sostituire la vecchia OH SAS 18001 per quanto riguarda i sistemi di gestione per la salute e sicurezza. Se avete bisogno di fare la transizione dal vostro sistema di gestione secondo l'OH SAS 18001 alla nuova ISO 45001, Stantec può aiutarvi nel percorso di adeguamento del vostro sistema di gestione con un percorso formato da 5 passi. Il primo punto è quello di redigere una gap analysis per verificare quali sono i passi da fare per rendere conforme il nuovo sistema di gestione alla nuova norma rispetto a quella vecchia. Il secondo passo è quello di redigere un piano di azione di miglioramento inserendo tempi, costi e responsabilità in modo di avere sotto controllo tutto quello che c'è da fare. Il terzo passo è quello di analizzare le competenze del proprio personale e verificare se c'è necessità di fare azione formativa per colmare alcuni gap che magari sono stati evidenziati nel passo precedente. Il quarto passo è quello di aggiornare tutta la documentazione del sistema di gestione, procedure e istruzioni operative e rendendole conformi alla nuova norma. L'ultimo passo è quello di sottoporre il nuovo sistema di gestione a una visita del lente di certificazione. In questo percorso noi di Stantec possiamo affiancarvi e dare una mano per rendere conforme il vostro nuovo sistema di gestione. Grazie a tutti!